Un'esperienza interattiva che unisce arte, gioco e musica, un escape room ispirata alla caduta del muro di Berlino e le vicende di una casalinga disperata che trova il rifugio nella droga. Sono queste le novità in programma per questa seconda giornata del Festival Internazionale Castel de Monni di Andrie. Si comincia dal chiostro di San Francesco con lo spettacolo Smile Interactive Choir prima nazionale. Si tratta di un potente gioco installazione dello studio belga Superb che offre ai partecipanti la possibilità di essere contemporaneamente sia direttore di orchestra che la voce stessa di un intero coro. Prima viene registrata la voce del visitatore, poi viene ripreso il volto che verrà proiettato su 20 schermi verticali, ingressi su prenotazione per tutta la giornata sino alle 22.30. Sare invece un altro dei luoghi simbolo di questo festival, l'Officina San Domenico, ad ospitare per l'intera durata della manifestazione la prima regionale di Where is Where, esperimento che a metà tra spettacolo teatrale e un escape room. Nove personaggi raccontano la loro versione dei fatti a 30 anni dalla caduta del muro di Berlino, un'esperienza interattiva che unisce gioco, narrazione e ricerca storica. Anche in questo caso ingressi a sessione su prenotazione dal pomeriggio alla tarda serata. La seconda giornata della Kermesse si concluderà con lo spettacolo Quale droga fa per me di Caianse sportato in scena dalla Compagnia del Sole. Sul palco le vicende di una sprovveduta casalinga, madre di un bambino problematico e con un marito assente e distratto. La protagonista, interpretata dall'attrice Stella Dario, deciderà di affrontare il vuoto della sua vita quotidiana, battendo vie non consuete alla sua categoria. Casualmente scoprirà l'ecstasi e da quel momento comincerà ad esplorare con passione e serietà il mondo delle droghe. Uno spettacolo da non perdere che uno degli eventi più attesi di questa edizione del festival. Appuntamento fissato alle 21.30 a Palazzo Ducale.